Adir ha sempre voluto lottare senza regole. Ora le ha infrante tutte. Adir è a nord. Recuperato sulle colline da quelli di Alcatala. Chi ha fatto catturare lui? Non lo sappiamo. Mi dispiace, Farah. Tuo fratello... È un terrorista. È una risorsa americana. O sta con i terroristi o ha in mano loro. Adir non vuole di certo noi. Poteva uccidere tutti quando ha rubato il gas, ma non l'ha fatto. E tu come lo sai? Ero lì. Volevo fermarlo. Non me l'hai detto. Pensavamo fosse Alcatala. Non certo lui. Ora lo sappiamo. Stanotte lo inseguiremo. Vengo anche io. Ma è tuo fratello? Non è mio fratello. Non più ormai. Vargov metterà una taglia su di lui. Allora prendiamo prima lui. Un'altra complicazione sarà guerra con la Russia. Noi evitiamo le complicazioni. È una pessima idea, Farah. Ci prendiamo cura dei nostri. Non è sempre quello che succede. Invece sì. Voglio fare in squadra. E non si discute. Va bene. Avete facoltà di uccidere. Tutti voi. Facciamo un brief. Le immagini confermano che Adir era in possesso del resto del gas rubato quando ha contattato l'emissario più brutale di Alcatala, il macellario. Sorveglianza ha seguito i veicoli fino a un complesso sui monti Acros, ritenuto la roccaforte del vero. Alex e Farah resteranno in attesa di autorizzazione, mentre Bravo-6 guiderà l'assalto per individuare le armi chimiche, recuperare Adir e uccidere il mondo. Benvenuti e bentornati, io sono lo zio Ariard di nuovo su COD. la campagna, cosa che ho deciso di fare, piuttosto che fare multiplayer, che poi comunque farò in seguito insieme a Ludo, insieme a Zynga, arrivo Capitano, Adam, eccetera. Ce ne sono delle cose molto carine, soprattutto quando riguarda la guerra terrestre e le operazioni speciali fatte in 3 o in 4, è veramente una figata. Anche i 2 contro 2, i 3 contro 3, lo vedrete poi anche insieme a Star Citizen. Arrivo un attimo solo, Capitano. Siamo tornati qui, avete visto l'inizio, che era la fine dello scorso episodio. Andiamo a caccia del lupo e vediamo di stanarlo. Ok, subito irruzione, dentro. Mi dispiace tesoro mio, ma mamma mi voleva ammazzare. Ok. Attenzione. E non c'ho avuto il cuore di farlo io, eh lo so. Anche se è un solo pixel, ma... Signora, chiedo scusa, ma sua figlia era una terrorista. Abbia pazienza. Passo da qua. 6-3, porta sul retro, piano terrarietro. Ricevuto. Arrivo dalla parte opposta. Sergente, togliamo la corretta. Luci spente. Eccomi. A posto. Primo piano. Con me. Sto dietro a lei, Capitano. Aspettate qui. Agli ordini. Vai avanti. Ok. Andiamo al primo piano. Movimenti, porta a sinistra. Due a terra. Guarda a sinistra. Mani in vista! A tutte le unità, abbiamo una donna ignota. Ricevuto, Capitano. Una donna ignota. Una ignota. Ok. Tu sei con noi? Un morto, un ignoto. Tuo compagno è morto qui, eh. Mi voleva fare saltare il cervello da dentro un cesso. E non è carino. Qua. Ok, qui c'è il Capitano. Perfetto, torniamo su. Vado su, vai. Era morto, sergente. Occhio a sinistra! Sinistra! Qui è libero. Mi spiace, ma... Mi spiace, ma... Vengo. Stiamo rinunciando. Negativo. Vogliono parlare. Mio figlio! Mio figlio! Mio figlio, figlio! Mamma, bimbi! Mamma! Sentiamolo. Mio figlio! Ok. Calma, lasciatela andare. Dov'è il lupo? Mio figlio! Grazie. Siete al sicuro? I miei uomini vi proteggeranno. Dov'è il lupo? Nel sotterraneo. Casa da te. Grazie. In guardia. Casa da te. Via. A tutte le unità, bravo in movimento verso la casa da te. E qua? Perfetto. Valeria. Alta là. Bella casa. Bella casa, comunque, sì. Ops. Cacchio, para. Ho beccato qualche Claymore, qualche trappola. E mo? Ecco qua, non possiamo tornare indietro, capitano. Non mi sente. Siamo soli. Tagliati fuori. Come ai vecchi tempi. Sì, ma non siamo da soli. Siamo nella tana del lupo. Bisogni schiamare tanto di vista. Occhio. Piano. Si nascondo. Vosso. Sei stata tu? No. Ma sapete che siamo qui. Io non sono stato. Un altro gravo. Attenzione. Vai, Alex. Ti copro. Ce n'è un altro. Erano 3, eh? Grazie. Sì, si è rascata. Passa di qua. Che c'è? Vado a sinistra. Occhio in alto. Cadendo attivato la trampola. E vabbè, chi si è rascata. A sinistra è libero. Non c'è nulla. Ok, passiamo. C'è un percorso qui. Dietro di te. Vado a destra. Ok. Libero. Vai. Detto io. Detto prima io. Ok. L'avevo ammazzato io. U merda. Via. Mi sono un po' abbrustolito. Dovevo tornare un po' più indietro. Sì, tutto a posto. Strisciamoci attraverso. Sì. Vieni con noi, Adir. Mi casca addosso qualcosa. Fatti vedere e muori. Ma perché vuoi ammazzare il tuo fratello? Non è solo un traditore. Sei solo un traditore. Ah, Will. Adir. Adir. Qui non c'è nulla. A posto. A terra. Merda. Solo un lì. Tutto libero? Sì, tutto libero. Sparato sulla gamba. Stai qui dietro, l'ho visto. Esci. Vedi. Mi scada almeno questa. Poi l'altra. Dov'è? Qua. Ok, libero qui. Vai a tirarla. Mi sa che si è aggirato da solo perché si è bruciato male proprio. Ah, questo era il mitragliere, vedi? Che si è fatto... Si è fatto flambè. Oh, scusa, Farah. Eh, ho capito. Wahoo, non sparate. Ho capito. Qui c'è un precipizio. Attenzione. Sì. Eh. Non era molto solito come pavimentazione, no. No, segui Adir. Troverò il modo di risalire. Segui Adir. Voglio la Adir Adir. 3-1-A-0-6, mi ricevete. A tutte le unità, qui Echo 3-1, trasmetto alla cieca. Il bersaglio è ancora nelle gallerie. Lo inseguo. Adir. 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 Ok, ha fatto bene a rimanere da sopra. Perfetto. Nel mondo occidentale pensano di poterci comprare. Ovviamente non è vero. È impossibile, dai, sai. Il fuoco di bamba. Devo andare. Noi siamo solo gli alpiretti. Abbiamo le armi. Non abbiamo perso. Ma non possiamo... Non è vero. Posso restare qui? E' facile morire per ciò in cui si crede. Lottare senza remo. Sì, dove va, dove va? La, scala. Ma solo così si può diventare veri soldati. Devo riuscire a salire. Noi agiamo per farla messa. La verità. Non saremo mai schiavi del po' di rispettura. Noi agiamo per i prezzi da pagare. E siamo felici di farmi salire il sangue. Il sangue nemico. Perché il sangue è per il sangue. Devo arrivare lassù. Eh sì, però a momenti non ci arrivo. Porca vacca. Grazie. Grazie. Grazie, Farah. Grazie. Grazie, Farah. Grazie mille. Grazie mille. Di qua. Questa è opera tua. No, è morto d'infarto. Stava lì. Se lo cercate, non lo troverete qui. È il lupo. Davanti a noi. Vai avanti. Hai soltanto me. Io sono solo un sensore della libertà. Giubbotto esplosivo. Non c'è via di fuga. È la fine. Se mi avvicinavo questo, mi faccio la sarta per aria. Perfetto. Continuo a scendere. Eh, mi dispiace, cicciola. Disinneschiamola. Aiutami. Disinneschiamola. Sì. 21 secondi. Vai. Ok. No. Sì. Sì. Fra tre. Due. Uno. Taglia. Verde, il prossimo. Giallo. Tra due. Uno. Taglia. Giallo, fatto. L'ultimo. Rosso. Ce ne sono due. Quello in alto. Tra due. Uno. Ora. Tagliato. Disinnescata. Ben fatto. Sempre qualcosa che al diopalma succede, porca. Dove l'hai imparato? Anni viene. In piscina. Mi stai andando a imparare. Tutte le unità. Qui eco 3-1. Non mi sentite, ma... Bingo. Versaglio principale morto. Alex! Volevo farlo io. Ma va bene anche così. Vorrei poterlo ammazzare due volte. Beh, grazie. Complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Anche se sembra essere andato tutto bene, non possiamo rilassarci. A dire i suoi amici si muovono. Dove sono? Una cosa per volta. Non sappiamo se sono amici. Spiacente, il generale non è d'accordo. Norris, ti avevo chiesto... Porta Laswell, diglielo. O lo farò io. Il comando ha cambiato designazione alle truppe di Farah. È possibile dirlo in modo comprensibile? Sono finiti sulla lista. Quale lista? Quella delle organizzazioni terroristiche. Ho dato l'ordine ai miei marin di considerarli come ostili. Cosa? Sono nostri alleati. Adesso non più. Rimetti subito il guinzaglio ai tuoi cuccioli, colonnello. Altrimenti... Altrimenti ti farò pentire di averlo fatto. Kate... Quelle persone hanno bisogno di noi. Non c'è nient'altro che possiamo fare. C'è molto altro, invece. Sono stanco di farmi dire chi sono i miei amici. Alex, no. Io torno in Urzikstan. Sto con le truppe di Farah. Questa è una cosa illegale. Tutto quello che facciamo è illegale. Solo le cose buone. Hai degli amici accanto. Anche tu. Grazie. Di tutto. Non è ancora finita. Fidati. Come sempre. Chi può darti, chi può darti di più. Ok. Qui dovremmo stare prigionieri dei russi, tecnicamente, perché ce l'aveva preso Varkov. Da quanto sei in isolamento? Dieci giorni. Sempre malata. Tu invece sei fiore. Farah. Tranquillo. Posso sopportare. Perché ci hanno messi insieme in questo modo? Ti usano per... ...arrivare a me. Prima dovranno uccidermi. No a dir. Tu mi servi vivo. Guarda. Ho preso una chiave. Che apre? Lo scopriremo. Ecco, tieni. Prendi. Presa. Ok. Nascondila. Arriva il generale Varkov. Ha saputo dei messaggi. Sa che tu sei Karim. Vedremo. Guarda. Riunione di famiglia. Ce l'avete messo voi insieme, quindi... Così. Se vuoi che la smetta, dimmi la verità. Vi deciferò a Sklad. Fatelo parlare. Questa è tutta mia. Sveri. Non attartarti a toccarla, bastardo. Ti ucciderò. Spero vi siate detti tutto. Tu e tuo fratello. Per questo non rivederlo più. Sta zitta e vai nell'angolo. Ok. Che metterai? Eh, Carla. Non è che ne fai qualcosa che... Cioè... Vada a finire in modalità con restrizioni. Già dico le parole, c'è più... Ah, ok. Pensavo che... Fa un caldo infernale in questo paese di merda. Devi avere sete. Ne vuoi? No. Put... Non so che... Eh, lo sapevo. Non l'ho presa. Stronzo. Ti faccio avere dell'acqua. Dvere. Seguimi. Dentro. La sedia, Farah. Eh, ok. Non puoi scappare, Farah. Non c'è nessuno che verrà a salvarti. Ti ho in pugno. Ma posso renderti la vita molto più semplice. Ora, parlami del comandante Karim e di quei messaggi. Vaffanculo. Vada come parli, Farah. Ho avuto pazienza con te. Ora basta. Non svenire. Rivedrai tuo fratello un'ultima volta. Ti darà da bere. Prova a respirare. Eh, così. Bene, così. Bene. Sì, proprio brava. Eh. Ora può passare. Ebbene. Tortura dell'acqua. Sei forte, Farah. Continua così e rivedrai a Tir. Ora dimmi. Chi è Karim? Rispondi. Karim è morto. Valle. Smettila di proteggerlo. Proteggi te stessa. Dove c'è? Ho trovato una delle tue sorelle. Non ho parlato, Valle. Tranquilla, non siete. Sì. Zitta. La sua vita è nelle tue mani. Farah. Resisti, lei vive. Svieni, lei muore. Escheras! Eh, vabbè. Questa volta sarà due tigli. Dall'altra parte. Non di là, Farah. No. Prima o poi dovrai riprenderti. Sei proprio brava. Sta fermo. Dall'altro lato, Farah. Provi a muovere la testa. Ancora. Un altro respiro. Basta. Non so svenuto. Stronzo. Complimenti, Farah. Le hai salvato la vita. Devi dirmi la verità. O lei muore. Ha fatto quello che volevi. Voglio la verità. Chi è Karima? Vaffanculo, cane schifoso. Tu potevi salvare una vita. Ora ti mostro come ne prendo una. No, è indiferenza. No, fermo! No! Richard. Che mi hai fatto fare? Eh? Eh, non volevo cedere, ma... Sì, sta schifo. Ma che è? No, non la voglio. Forza. No. Tanto lo butti per terra. No. Perché mi hai preso? Pensi di potermi battere? Ti sei incazzato, eh? Basta, Giochetti! Tuo fratello mi ha rubato una chiave. Dov'è? Hai perso una chiave. Ne manca una, ma ne abbiamo altre. Che cosa apre? Ti credi tanto sveglia? Karim? Sì, lo so. L'ho sempre saputo. Ora... Dov'è la chiave... Lo sapeva. L'ho fatta ammazzare inutilmente. Chieta. Lo so bene. L'hai sempre tenuta nascosta. Questo paese è una maledetta tana di terroristi. Si vede, infatti tu sei un sincone santo. di né rigore in questa terra. E proteggerò la mia patria dai ladri terroristi! Io proteggerò la Russia! Chieta! No sé che mi amazza. Mi stava amazzando. Noi, 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 noi. Che cosa mi è successo? Non è successo? Non è successo! Non è successo! Non è successo! Però... Sono stato bravo perché... Non ho tradito la... La fiducia... Di quella tipa che poi però... Alla fine è morta e quindi... mi serve un attrezzo il cucchiaio si è scordato il cucchiaietto chi c'è? qualcuno? qua cosa sono entrato a fare? cosa sono entrato a fare? qui? ok eh c'era un motivo pensavo di trovarci bene solo un fucile una pistola si si to i bagni pensavo che schifo ci sarà qua mamma mi sono riso infatti sono resissima arrivo sorelle siamo qui sorelle sei scappata lo sapete dai sorelle le armi dove stanno le armi? le armi sono quelle no grazie a dir c'è sua sede si ammazziamolo ok ritornano le guardie faremo un'imboscata come? puntiamo e spariamo per uccidere come abbiamo detto staglio in movimento staglio in movimento siamo invandati per la colonna grazie libero tutto libero via 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 e elicottero è barro un figliaccio sto staggando ti aspettavi da un cane come lui liberiamo gli altri dal magazzino prima che sia troppo tardi con me sorelle è un cecchino protegge il magazzino i prigionieri sono là dentro andiamo sentitevi via unire di russo puntatelo come? puoi rimettere? nemico vicino al muro farati prendo di mira scusatemi occhio guarda un'altra arrivarati tacci tua tacci tua tacci tua sparate è la facciamola fuori invece sulla strada dove? puoi ripetere? venite e prendo retto forniti di copertura devo ricaricare si spostano stiamo raccontando il magazzino si avviciniamo il palco vicino si vicino a quell'edificio eccoli là scusatemi il cecchino ci può guardate eliminiamoli via nemico sulle scale si vedo dove assolo? quello è qua grande è nemico vicino alla strada vateli fuori nemico vicino a quell'edificio guardate 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 scopritemi 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 a terra occhio scopritemi c'ho messo un po' cazzo di armi che se li caricano mai come cristo comanda tiè grande capitano sono io qui ci siamo conosciuti praticamente io Karim tu campionato Price tenente all'epoca sta vicino andiamo libero 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 e dei prigionieri e rompiamo state indietro dai 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 via via immancabile piede de porco del capitano all'epoca tenente Price fuori grande a dire eh beh ce l'abbiamo fatta raduniamo prigionieri a scorte ce ne andiamo andate a nord evitate l'autostrada bravo 6 a cobalt 4 confermate il tempo di attivo 10 minuti ricevuto restate lì sbrigatevi ci sarà anche Barcov per vendicare i suoi va aspettaci Sifar ve la farà pagare lo sapete gliela faremo pagare noi saremo pronti abbiamo sgomberato la strada a nord accampatevi lì è sicuro grazie la rivoluzione inizia adesso sorella la guerra inizia adesso anche la guerra ha dei valori ricordatevelo bravo 6 due minuti a decollo vent'anni di guerra civile non c'è niente di civile a dire ben addestrato ha cerchiato rapito non importa ha portato il gas in Russia si ma con l'aiuto di Alcatala lui ha i contatti e le truppe tu lo piassimeresti non ufficialmente no ma questo è più grande di Adira adesso ci sono due opzioni o avvisiamo Mosca o la madre russa assaggerà la sua medicina no morirebbero molti innocenti a causa di una risorsa occidentale ok ma adesso veniamo al sodo suggerimenti un viaggio d'affari non autorizzato fantasma la squadra alcuni vecchi amici e il sergente è pronto vi farò entrare dopo sarete da soli soltanto armi del posto lascia fare a me top grandissimo capitano Price bel panorama Nicolai era la capitana a San Pietroburgo ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio spero che vi sia piaciuta fino a questo momento la campagna adesso dovremmo fare un po' qualcosa tipo spia e quindi ve lo tengo per il prossimo episodio ci vediamo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un bel like e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao no aspettate no aspettate no aspettate no aspettate no aspettate no aspettate Grazie a tutti.